Quattro amiche non più giovani fanno parte di un club del libro nel quale condividono letture e si scambiano consigli. Diane è rimasta vedova dopo 40 anni di matrimonio. Vivian, nonostante l'età, ancora si rifiuta di imbarcarsi in una relazione seria. Sharon è un giudice federale ritiratasi a vita privata dopo il divorzio. Carol ha un matrimonio saldo, ma affievolito dalla routine. La lettura del best-seller erotico 50 sfumature di grigio sconvolge le vite sentimentali delle quattro donne, ciascuna le prese con nuovi incontri o vecchi rapporti da ravvivare. Diane comincia una relazione con Michelle. Vivian teme di innamorarsi della vecchia fiamma Arthur. Sharon si iscrive a una chat per appuntamenti, mentre Carol fa di tutto per spingere il marito a ritrovare la passione. È il film Book Club. Tutto può succedere. In programmazione è un cinematogruzzo in tangelo di Perugia dal 5 a 10 aprile, con spettacoli alle 18.30 e alle 21.15, mentre il sabato e la domenica anche alle 16.30. Ci posso credere? Mi hai messo il Viagra nella birra. Signore, scendo dalla macchina, per favore. Non credo che sia una buona idea, gente. Ok, buon divertimento. Anche a lei. Grazie.